Da una settimana il ponte sul Nure a Farini è nuovamente percorribile nel doppio senso di marcia. I lavori iniziati alcuni mesi fa stanno per volgere al termine. Manca ancora l'impermeabilizzazione delle carreggiate e la conclusione della pista ciclabile. Nel cantiere hanno effettuato un sopralluogo il presidente della provincia Patrizia Barbieri con il delegato Sergio Bursi, il sindaco di Farini, Cristian Puggioli, tecnici e dirigenti. Qui la soddisfazione è stata anche quella di vedere una sistemazione infrastrutturale importante che ha tenuto conto delle esigenze della vallata. Non abbiamo mai chiuso anche se i lavori in teoria avrebbero richiesto la chiusura ma con una ditta che è stata estremamente disponibile a fare le lavorazioni di notte e quindi anche con un senso unico alternato durante il giorno, ovviamente particolarmente difficoltoso perché operava siamo riusciti a portare a termine e porteremo a termine perché sono le ultime fasi un'opera che ritengo comunque importante. Come amministrazione siamo soddisfatti della messa in sicurezza di questo ponte perché garantisce ai cittadini che vi transitano ogni giorno di poter passare con una sicurezza maggiore rispetto a prima. I lavori per la messa in sicurezza del ponte hanno avuto un costo di 700.000 euro.